Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su Inscription. Oggi proviamo una nuova difficile challenge che mi costringerà a rivedere tutte le mie tattiche. Infatti, utilizziamo nuove carte, ma la situazione prende una piega veramente inaspettata e mi ritrovo con praticamente ben 3 capre nere e poche carte d'attacco. Signori, sarà una bella sfida. Buona visione! Sarò onesto con voi, non pensavo quando ho iniziato la Cases Mode, che mi sarei ritrovato a fare addirittura 9 run. Ed il bello è che non è finita qua, perché non sappiamo quanto ci vorrà per sbloccare anche le ultime due challenge, che immagino saranno bastarde da far schifo. Per adesso le abbiamo completate tutte, ma nella scorsa puntata ne abbiamo ottenuta una nuova. Praticamente, le nostre carte iniziali saranno penalizzate fin dall'inizio, perché essendo fastidiose, andranno praticamente a potenziare le carte avversarie che si trovano davanti. Ed in effetti, se vogliamo iniziare una nuova run, possiamo giocarci un unico starter deck, ovvero quello del Dio delle Mantili, perché, ok, ha i vermi ad anello, ma non li utilizziamo praticamente mai e l'unica carta che sarà tendenzialmente noiosa e che andrà a potenziare la carta nemica sarà quella del Dio delle Mantili stesso. E pertanto non dovremmo avere effettivamente troppi problemi, casomai la sacrificherò per dare il suo potere a una carta che abbia molto più attacco, ma dobbiamo essere molto fortunati. Allora, dobbiamo ottenere 90 challenge point o non possiamo iniziare la nostra sfida. Quindi, attiviamo questa fastidiosa abilità, una singola candela, quindi non potremo mai morire. Aumentiamo, ovviamente, la difficoltà. Mi servono ancora una maria di punti. Sentite, facciamo la challenge classica, quella di difficoltà estrema? Sì, l'avete capito bene. Totem in tutte le battaglie e totem anche i boss. Arriviamo a 90 punti tondi tondi. Potrei anche andare oltre? Sì, ma il gioco dice, sei in eccesso, non ti do nessun vantaggio alone, non far follie. No, non farò mai la run con tutte le challenge attive, perché è impossibile. Immaginate sommare queste due. Sì, si possono sommare, sono la stessa challenge, ma aumenterà in maniera esponenziale la difficoltà. Già normalmente ci giocano carte che fanno 3 di danno fin dall'inizio. Dovremmo essere molto, ma molto fortunati, ragazzuoli. Signori, vi presento le carte con cui dobbiamo iniziare questa maledettissima run che sarà molto più difficile della precedente. E come potete vedere, tutte e tre hanno il sigillo irritante, ovvero, lo ribadisco, la creatura di fronte a una carta che possiede questo sigillo ottiene uno di potenza. Quindi, a livello teorico, se siamo davanti a una roccia, che normalmente non fa nulla, la roccia si incocchia e inizia a picchiare la carta che si trova davanti a lei. Ti tipo il dio delle mantidi lo metti davanti a una roccia, la roccia lo sciotta, non sto scherzando. Per fortuna che le pelli di coniglio almeno non sono irritanti pure quelle. Ah, i vermi ad anello che già sono inutili, ora sono pure irritanti. Tecnicamente avvantaggiano il tuo avversario. Ma vabbè, dettagli. Signor Leshi, stavolta la challenge se l'è giocata bene. Porca di quelli per porca, vediamo un po' quale altre challenge mi propongono. Il verme ad anello, guardicelo. E poi dobbiamo recuperare tentacolino, quello a cui piacciono le carte. Oh, no. È più complicato del previsto, ma meno del solito. Ok, dipenderà tutto, gente, essenzialmente, dalle carte che troveremo. Dalla nostra amica mercante. Signora, la prego, mi porti un po' di chiurlo, perché c'ho una sfiga di proporzioni bibliche. Ok, per fortuna ci dà le solite due pellicce di coniglio. Uh, lo scarafaggio non è male. Oh, una mezza idea. Signori, forse so come salvare l'intera run. Non sto scherzando, e sarà tutto nelle zampe del grizzly e nelle corna della capra nera. Allora, recuperiamo. Uno e due. Credo di aver capito. Allora, adesso vi spiego. Arrivederci, signore. È stato un piacere rivederla. Praticamente, cosa dobbiamo fare? Il grizzly, normalmente, è una carta difficile da giocare, perché richiede tre sacrifici. Ma, con la capra nera, siamo praticamente a posto. Ora, io prendo il dio delle mantidi e lo uccido, lo sacrifico, per dare il suddetto potere di colpo triplo al nostro grizzly, che, ok, purtroppo sarà anche irritante e inevitabile, ma farà automaticamente 12 di danno e avrà 6 di vita. A livello teorico non c'è neanche bisogno di potenziarlo, Alphalot. Tuttavia, se non troviamo prima una capra nera, moriremo male male, ok? Quindi queste due carte saranno comunque un fastidio di cui ci dobbiamo liberare quanto prima, ma bando alle ciance e andiamo a recuperare un po' di oggetti. Ah, non ci servono, quindi ci dovrebbero dare la carta del topo da Soma. Ciao, piccolo stellino. Altra carta molto utile. Se questo sigillo lo diamo a una carta molto semplice, dovremmo riuscire ad avere praticamente oggetti infiniti. Allora, tutte le battaglie ovviamente utilizzeranno i totem, però abbiamo un altare sacrificale in questa direzione che non mi dispiace. Quindi partecipiamo innanzitutto alla prima battaglia, sperando di non morirci male male. Allora, lui ha i serpenti che ti zompano addosso quando meno te lo aspetti. Oh maronne, si sta avverando quella previsione brutta brutta. Se mettiamo il dio delle mantidi davanti al ceppo, praticamente il ceppo ci picchia. Aiuto! Eh, vabbè, ma allora dillo che mi odi. Non posso usare i grizzly perché ovviamente non c'è la capra. Ok, per adesso abbiamo le mani legate. Sta arrivando una lucertola che al massimo bullizzerà temporaneamente questo ceppo. Quindi purtroppo dobbiamo passare il turno al nostro avversario. Ti prego, dammi una carta utile. Il topo da Soma. Ho chiesto una carta utile, gioco. Aspè, ho una mezza idea. Prendi lo scoiattolo in bottiglia. Scoiattolo 1, scoiattolo 2. Oddio, c'è già la lucertola che deve rompere le schiatole. E possiamo giocarci il topo da Soma che mi dà un paio di pinze. Gioco, vuoi che mi cavo i denti? Ho capito che ho i denti del giudizio che mi fanno impazzire. Eh, vabbè, meglio che nulla. Per adesso ci può sciottare la lucertola. E vi sarò tutti felici e contenti. La rana toro comunque ci farà uno di danno. Era inevitabile. Il dio delle mantidi. Buongiorno, signore. Ok, per adesso me lo tengo da parte perché non abbiamo nessuno scoiattolo. Ok, liberiamoci intanto di quella cocchia di carta. Ed è arrivata anche la capra nera. Mi arrendo. Cocchi tuoi. No, io non mi arrendo. Vediamo di continuare a fargli un po' di danni. Recuperiamo anche lo scoiattolo. E a sto punto mettiamo lo scoiattolo. La capra nera. Perfetto. E poi il nostro caro buon grizzly che lo piazziamo qua davanti. Poi, siccome devo fare uno spropoito di danni perché mi servono i dentini di lesci. E il topo da Soma fa solo due. Ah, vabbè, ma se mettiamo anche il dio delle mantidi fa comunque due di danno perché poi danneggierebbe il ceppo. Ok, tecnicamente non cambierebbe nulla. Quindi facciamo per adesso sei di danno. Perfetto. Recuperiamo tre dentini di lesci così di primo mattino. Arrivederci, signore. Mi saluti il totem a casa. Allora, dobbiamo andare direttamente dal prospettore. Buongiorno, signore. Che ne dici di tentare la fortuna? Scegli una roccia. Ok. Mostrami dove colpire. Anghingo. Quanti porchi tirerò. Ok, punto quella di sinistra. E abbiamo tenuto una pelliccia dorata. Oh, ma che mi venga un colpo. È oro. Ok, perfetto. Mi sarebbe andata bene anche una carta normale. Anzi, nel suo caso di solito mi dà una versione potenziata di alcune carte che effettivamente ci hanno già aiutato parecchio negli scorsi episodi. Allora. Signori, ribadisco, è rischioso, ma secondo me può funzionare. Dobbiamo comunque toglierci dalle balle sti vermi ad anello. Un'altra tattica buona sarebbe dare il potere della capra nera a uno dei vermi ad anello, che comunque li renderebbe un po' più utili. Ma... Sì, me lo rischio. Me lo rischio. Dio delle mantini, questa volta non ci accompagnerai nelle nostre avventure, perché il tuo potere se lo prende il grizzly. Oh, maronne. Abbiamo un grizzly che fa 12 di danno, ma fa girare gli zebedei alle carte che ha davanti. Purtroppo è inevitabile. Oh, abbiamo comunque un altro altare anche qua. Non è detta che non possiamo ancora sacrificare la capra nera per il verme ad anello. Più che altro, come ho detto, per ridurre il numero di carte e avere in mano solamente quelle più utili. Allora, questa volta abbiamo i serpenti che ci spostano all'improvviso. Ti dribblano, ti sbiscano in parte. Vabbè, questa la vinciamo instant. Mettendo scogliattolo. No, 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 verme ad anello. Scusi, volevo la capra nera. Perfetto. Ed infine, il grizzly incocchiato con la vita. E non è ancora volante. Magari in futuro lo faccio pure volare. Faccio spiccare il volo. E guardate quanti dentini non abbiamo ottenuto. Fin dall'inizio, signor Lesci. Non le sta andando molto bene. Più che altro è a me che sta andando. Di gran chiurlo. Allora, per adesso non mi metto a costruire nuovi totem. Quanto meno la prima parte della run la possiamo affrontare senza nessun totem. Il procione, la formico peraia. Tutte carte abbastanza noiose. Il millworm. Questa è un'altra carta utile che ci permette di trasmettere eventualmente i suoi due punti di vita alla carta per cui viene sacrificato. Ok, ok. Mi piace come ragionamento. Ed eventualmente è una carta facile da giocare colore ci servissero dei sacrifici. Ok, ci richiede solamente due ossa. Perfetto, passiamo quindi al prossimo. Eh, quanti altari non me lo dici quest'oggi? È una roba incredibile. Allora, vediamo di ragionare su una proposta molto interessante. Se l'abilità del millworm la diamo al topo da somma. Praticamente ogni volta che ce lo giochiamo, sì, ci richiederà due sacrifici. Ma la carta per cui noi lo sacrifichiamo si prenderà due di attacco e due di vita. Non dico altro. E a sua volta ci darà anche un oggetto. Però è tanto rischioso, tanto, tanto rischioso. Ok, teniamocela da parte come tattica. Per adesso. Capra nera, è stato un piacere rivederti. E trasferiamo il tuo potere al verme ad anello. Anche se ha l'abilità irritante. Non rimane normalmente giocata sul tavolo. Perché viene automaticamente sacrificata. Perciò non è un grande problema. Guarda dove era il falò. Maledettissimo falò. Ok, non è un grande problema. Andiamo dritti, dritti al prossimo scontro. Signor Leshi, si gioca gli insetti che spingono ma proprio una cifra. Proprio vanno a destra, a sinistra. Un casino, un disastro. Allora abbiamo il grizzly, lo scogliattolo e il mealworm, quello standard. Quindi per adesso ho le mani abbastanza legate. E lui si gioca la formica operaia e il verme ad anello. Ok. Allora per adesso passiamo il primo turno. È inevitabile. Aia, verremo un po' bullizzati dalle sue formiche. Che continuano a spostarsi avanti e indietro. E sta cosa mi mette ansia. Allora abbiamo il verme ad anello. Quello potenziato. Pertanto, scogliattolo. Uno. Dove boia sei. No, scusi. Verme ad anello. Due. Olè. Ed infine lo sacrifichiamo per piazzare il grizzly arrabbiato con la vita. Che dovrebbe shottarmi. Mi shotta tutti. Mi sa che shotta praticamente tutti. E nel frattempo fa pure quattro di danno. Per non farsi mancare nulla. Oh, è sempre bello quando hai una carta che non è volante. Perché ti distrugge praticamente tutti gli avversari che gli si parano davanti. Ok, vediamo di pescare un'altra carta dal nostro mazzo. Il topo da somma. Per adesso non me lo posso giocare perché dovrei far fuori il grizzly. Pertanto non è la cosa migliore da fare. Potrei giocarmi il mealworm. Ma il sacrificio non basterebbe per mettere il topo da somma. Quindi per adesso passiamo il turno al nostro avversario. Facciamo comunque 12 di danno. Che cosa buona è tanto giusta. E ci prendiamo una decina di dentini di lesci. Ah, sono stato strafortunato a trovare il grizzly all'inizio, gente. Altrimenti non canterei vittoria così facilmente. Perfetto, vediamo quindi quale carta scegliere. Avrei preferito di gran lunga un lupo. Vediamo un po' se siamo fortunati. Ok, ti prego dimmi che sei il lupacchiotto. Il lupacchiotto. Ottimo, ottimo, ottimo. Una carta d'attacco in più ci tornerà veramente molto utile. E stiamo per affrontare il pescatore Mesteri Pesca. Ma prima facciamo un saltino veloce veloce. Al nostro altare sacrificale. Buongiornissimo. Allora, uh, questa abilità al lupacchiotto. Anche se sarebbe meglio. Renderlo più potente, attacchi multipli e tutte cose. Senti, sacrifichiamo il topo da Soma. Visto che comunque richiede due sacrifici. E a sto punto diamo il suo potere al Millworm. Perfetto, che di solito richiede due ossa. Quindi è facile che facciamo un paio di sacrifici. E le possiamo quindi schierare senza troppi problemi. Stiamo per recuperare un'altra carta topo da Soma. Perché per niente le collezioniamo. Gada Catchemall. Perfetto, sì, sì, lo so che lo zaino era pieno. Porti pazienza. Ciao ciccio, ho appena sacrificato tuo cugino. Quindi siamo a posto. È giunto il momento di andare a pesca, gente. Vediamo un po' quale totem si gioca il bastardo. Nulla di che. Gli uccelli che spingono ancora una volta. Quello che a prima vista hai scambiato per un macigno deforme si è rivelato essere un uomo mastodontico. Ogni volta mi dà una intro differente. Hai tentato di passare inosservata, ma il tuo piede ha urtato un secchio di metallo. Ed eccolo qua. Misteri Pesca. Yey. Guardi, ce l'ho magari un bel branzinetto. No, eh. Allora, mi dai subito il mealworm, il topo da soma e lo scoiattolo. Quindi siamo nella M più totale. E lui si gioca il martin pescatore. Allora, per adesso ho le mani legate. Non c'è molto che possiamo fare. Se non subire un po' di danni. Ok, lui è già lì che muove l'amo. Gioco. Mi hai dato il lupacchiotto della serie meglio che nulla. Mi preoccupa più che altro il suo cocchio di uncino. Allora, per adesso mettimi lo scoiattolo ed... Il lupacchiotto. Ma sì, dai, mi pare un buon investimento. Tuttavia, dobbiamo spostare il suo cocchio di amo. E pertanto mettiamo la pelliccia dorata che, ci siamo fortunati, mi sposterà la carta nemica. Adesso non so come si comporterà, eh. Ho anche io qualche dubbio. Perfetto. Intanto, uno di danno glielo abbiamo fatto. Lui ci farà invece due di danno. Vai, vai. E olè! Ottimo, ottimo. E intanto il mio lupacchiotto è diventato un adorabile lupo. Finalmente il verme d'anello. Che cosa buona e tanto giusta. Ma non abbiamo praticamente carte d'attacco. Ok, lasciamo che il lupo faccia il suo corso. Ok, adesso la bilancia pende. Di nuovo a metà. Vabbè, a metà mi va benissimo. Oh, sta per afferrare il lupo. Sta per afferrare il lupo. Ok, devo ideare qualche tattica. Allora, c'ho una messa idea. Mi sto per trovare un venso. Ah, se ci sono niente. Se ci sono niente, mi faccio un menso. E mettiamo lo scoiattolo. Il verme ad anello. Ed infine il topo da soma. Che assieme al nostro lupacchiotto ci fa giudicare lo scontro. Uh, il ventaglio. Carta veramente tanto, tanto utile. Tuttavia, quello che mi rode è che praticamente facciamo solo uno di danno extra. Ma almeno ci siamo giudicati. La prima parte dello scontro. Oh, le... Mesta ripesca! Oh no! Oh no! Le carte volanti mi avrebbero fatto comodo. Allora, vediamo un po' chi arriva. Il verme ad anello, quello inutile! Bene! Molto bene! Potrei vincere facilmente utilizzando il ventaglio. Che cosa buona e tanto giusta. Ah, che mi invento, che mi invento. Perché né il lupo né il topo da soma possono sopravvivere. Mi sembra la cosa migliore da fare. Allora, rendiamole tutte e due volanti. Vai, perfetto. E per sicurezza mi gioco il mealworm. Così recuperiamo. Uh, molto, molto bene. La grande forbice e voilà! Non abbiamo neanche dovuto utilizzare il grizzly overpower. In che è vero peccato, perché ribadisco qualche dentino extra di lesci. Ah, lo avrei voluto! Ottimo! I bei tempi in cui mi riaccendeva le candeline. Buon uomo, ma vabbè, dettagli. Il cinghiale, il topo da soma e uraiuli. Non me ne faccio praticamente nulla di te. E anche il cinghiale è una carta praticamente inutile. Che faccio? Mi porto via un altro topo da soma a sto punto. Diamo l'abilità a... Non lo so, alle nostre altre carte. Va bene, dai. Portiamoci via il topolino. E chi si è visto? Si è visto a posto. E ora è giunto il momento di passare alla prossima mappa. Vediamo un po' dove siamo spuntati di bello. Ah, non è male come zona. Allora, abbiamo un falò qui. Qua possiamo intagliare eventualmente il nostro primo totem. Uh, i micologi. Ma purtroppo non... Abbiamo il topo da soma. Potrebbe diventare una carta bella potente, eh? Con 4 di vita e 4 d'attacco. Eh, vediamo di non escluderlo completamente per adesso. Allora, andiamo verso destra e possiamo richiedere una nuova carta. Ribadisco, questa run non è iniziata nel migliore dei modi, ma non mi posso lamentare. Eh, vediamo se recuperiamo una... Uno scarafaggio. Ok, ottimo per l'abilità immortale che possiamo eventualmente dare a una delle nostre carte. Allora, il nostro primo falò. Ovviamente, dobbiamo sperare di A, poter potenziare una delle nostre carte, oppure B, poter sacrificare uno dei vermi ad anello e incrociare le dita in modo tale da non rincontrare più i signori in questione. Al diavolo, cerco di liberarmi di quel cocchio di verme ad anello praticamente inutile. Signori, fatevi una bella scorpacciata tanto che ci siete. Uuuuh, ha funzionato! Scommetto che farete una leggerissima indigestione. Devo solo sperare di trovare un altro falò. Mano a mano che andiamo avanti, perché nella scorsa run i falò erano praticamente estinti. È stata una cosa veramente assurda. Ma a bando alle ciance ci attende un nuovo scontro e questa volta... No, vabbè, dai! Ai cervi che ci riflettono uno di danno? Dillo che mi odi nel profondo! Arriva subito con un cervo incocchiato di primo mattino che fa già due di danno e c'ha quattro di vita. Eppure la talpa che può parare la maggior parte di danni. E io ho le mani legate. Non posso fare praticamente nulla se non subire due di danno direttamente dal signore in questione. Ah, che rottura di scatole! È arrivato il mealworm! Che comunque non possiamo schierare. Non posso fare nulla! Davvero? L'unico cosa che posso fare è tagliare quel cocchio di cervo e... e via! Taglia il cervo! Perfetto! Peccato perché quella forbice ci sarebbe tornata utile ma appena possibile vedo di mettere qualcuno e dovremmo essere praticamente a posto. Per adesso passiamo ancora il turno. Intanto è arrivato un altro cerbiatto. Verme ad anello, buongiornissimo! Facciamo una tattica rischiota. Allora, scogliattolo 1 dove boia 6. Verme ad anello 2. Ole! E li sacrifichiamo per mettere il topo da Soma che nel frattempo fa comunque 2 di danno che è cosa buona e tanto giusta quindi dovrebbe far fuori comunque il cerbiatto e mi ha dato ancora le pinze. Oggi davvero mi dovete far cavare i denti ma la vogliamo smettere con sta storia? Ok, Lon, dati una calmata che è meglio non triggerati male. Ah, già è vero. Però aspetta, così facendo abbiamo bloccato l'arrivo del cerbiatto ma sta arrivando un passero a rompere i maronzoli. È arrivato anche un lupo a chiotto tuttavia rischiamo che ci schiatti male male. Ah no, aspetta, il passero è una carta volante? Non è un problema. Quindi mettiamo il mealworm qui. Ah, porca di quelli per porca mi sono giocato un oggetto vabbè, non importa. Mettiamo quindi il lupo a chiotto sacrificando il mealworm che per adesso fa uno di danno ma dopo trasformandosi in un lupo arrabbiato con la vita dovrebbe permettermi di fare uno sproposito di danni e vi sarò tutti felici e contenti. Vai, passiamo il turno al nostro avversario. Ok, pian pianino stiamo recuperando purtroppo, aia, subiremo un po' di danni. È inevitabile. Il cerbiatto intanto si è spostato. Ulteriore topo da Soma ma per adesso facciamo fuori sto cocchio di passero e facciamo due di danni con il nostro primo topo da Soma. Perfetto, lui si trasforma e ci farà purtroppo due di danno e perdiamo anche il primo topo da Soma. Oh, santi numi. Yay, Grizzly! Sei arrivato finalmente ma non so come cocchi utilizzarti praticamente. Per adesso metto la pelliccia dorata in modo tale da bloccare l'attacco del cerbiatto. Il nostro lupo non fa abbastanza danni da shottare il suddetto cervo. Però lo danneggiamo abbastanza. Vediamo un po'. Subiremo un po' di danni. È inevitabile ma poi il cervo si sposta. Che cosa buona e tanto giusta. Allora, per ora non posso fare molto altro se non incrociare le dita e sperare di resistere abbastanza. Anzi, possiamo ad esempio mettere uno scoiattolo qua davanti in modo tale da ridurre i danni che subiremo. Perfetto, così il nostro lupo fa tre di danno. Ottimo. E lui al massimo... Ah no, ce ne fa tre comunque. Sperava il telone sperava e invece no ma porca di quelli per porca mi arrendo. Sì, sì, lo so che tu ti arrendi ma per me è diventata una questione di principio, ciccio. Nonostante tutto posso ancora riuscire a vincerla. Mettimi uno scoiattolo lì. Purtroppo il mio cocchio di lupo c'ha sempre i nemici davanti. Aia, è inevitabile. Perfetto. Ok, altra carta scoiattolo maronne. Finalmente posso mettere lo scarafaggio che non è che mi cambi l'esistenza ma mi permette di far fuori. Prendi tutto quel cocchio di cervo che cosa buona è tanto giusta e questo scoiattolo mi permette di bloccare gli attacchi nemici. Vai così, perfetto. Intanto lo scarafaggio è anche ritornato nella mia mano. Perfetto. Purtroppo ci bullizzano la carta è inevitabile. E continuiamo con questa tecnica praticamente all'infinito che cosa buona è tanto giusta fin tanto che non riesco ad aggiudicarmi la battaglia. Perfetto. Uh, uh guardate cosa sto per fare. Possiamo mettere lo scoiattolo qui lo scarafaggio qua e finalmente sacrifichiamo il trio meraviglia per mettere il nostro grizzly mi fa comunque otto di danno della serie meglio che nulla. Perfetto. Oh, meno male alla fine ce l'ho fatta sta battaglia è stata anche decisamente troppo lunga ma ancora una volta recuperiamo uno sproposito di denti da lesci perché la carta dei grizzly doveva essere in fondo al maledettissimo mazzo. Stavo per dire di peggio ma abbe dettagli. Ah, c'è la mercante ma purtroppo abbiamo solo una pelliccia dorata per adesso. Allora, vediamo di scegliere una nuova carta. gioco un po' di culo non mi dispiacerebbe un'altra capra nera una in più fa sempre comodo voglio dire perfetto questa me la porto via soprattutto visto che buona parte della nostra strategia si basa su quel cocchio di grizzly buongiorno signori ce ne portate due dello stesso tipo ci piacerebbe sperimentare eh sì ok datemi un secondo che avevo problemi con il log abbiamo due topi da soma che possiamo fondere dovresti è meglio se non guardi ok guardo nulla però almeno è diventata una carta devastante e che ci regala anche dei ninnoli ah piccolo stellino perfetto e all'occorrenza lo possiamo fondere uh c'è un falo in questa direzione però mi tocca passare dalla mercante ah che rottura di scatole tuttavia sarebbe utile suddetto falo per potenziare il nostro lupacchiotto i grizzly è già a posto così quindi non ci possiamo lamentare bando alle ciance una nuova battaglia ci attende vediamo un po' che totem ti giochi ah i cervi che saltano in alto e ti incornano le carte volanti nel frattempo abbiamo comunque un abete innevato anche lui ce n'è uno però si gioca il red bull e l'istrice allora l'istrice si metterà a bullizzare l'abete innevato quindi siamo a posto ma il red bull si sposterà avanti indietro quindi farà spostare a sua volta le varie carte oh abbiamo già la capra nera a questo punto mi cavo un delfilo fino all'inizio e mi ha giudito la baffaia sono faffo malissimo allora mettimi uno squiattolo una capra nera perfetto e vorrei giocarmi anche un millworm ma non posso farlo mettimi anche un topo da soma direttamente qua perfetto che ci fa 4 di danno ci ha regalato che buia ci ha regalato ah le ossa extra e dai poteva andare peggio potrei anche schierare il millworm per ottenere un altro oggetto ma è inutile esagerare mi spiace più che altro concludere subito la battaglia senza fare danni extra grizzly non mi stai mai spuntando ok ok non importa non importa però si io andrei in questa direzione anche perché qua abbiamo i micologi e non abbiamo altre carte qui abbiamo la possibilità di recuperare un altro topo da soma ma direi che per oggi ne abbiamo recuperati abbastanza dobbiamo tecnicamente sperare che la mercante ci dia delle carte rare e faighe visto che abbiamo una pelliccia straordinaria incredibile i velli dorati uuuu il gecko basta col topo da soma la deve smettere che cocchio oh ragazzi gecko più abilità della della pecora nera non dico altro si vabbè della capra nera questo ce lo possiamo giocare senza sacrifici uuuu è una cosa che mi piace ma popo una cifra ok perfetto è stato piacere rivederla signora ottimo vediamo quindi di andare al prossimo falò in cui misteriosamente troveremo tutti i morti male male ed in effetti è un falò che migliora la vita pertanto vediamo di potenziare il nostro adorabile lupacchiotto così direttamente a 5 di vita e a tutto il tempo per digi evolversi senza rischiare l'estinzione uuu abbiamo il pittore abbiamo il pittore quindi potremmo clonare il il nostro grizzly è rischioso in effetti però vi dirò sarei anche tentato di creare la capra nera immortale che continua a spawnare capra nere all'infinito che a sua volta ci permette di creare la farm delle ossa segniamocela come tattica perché potrebbe essere utile a sua volta per spawnare il mealworm che a sua volta mi permetterebbe di mettere insomma ci sono un sacco di possibilità allora per adesso vediamo di fare un saltino stavo per dire la prossima battaglia ma il gioco come è crashato ok ho ricontrollato la registrazione stavolta non si è corrotta per fortuna che è già successo mi pare lo scorso episodio me ne sono accorto solo il giorno dopo in editing allora ritornando a noi si è giocato il totem con gli uccelli che si spostano di lato e si ragno ti devi levare dai maroni e ha giocato direttamente l'avvoltoio tacchino che ha 3 di vita e fa 3 di danno signori mi sembra un comportamento un po' cittoso indovinate un po' io non ho praticamente carte che fanno attacco lo scarafaggio ma non lo posso utilizzare perché mi servirebbero le ossa allora per adesso dobbiamo passare la mano al nostro avversario che ci bullizzerà male pezzo di erba maledetto e intanto l'avvoltoio si è spostato abbiamo il topo da somma che fa 4 di danno oh e intanto sta arrivando un uovo di corvo allora cerchiamo di essere tattici per adesso mi cavo un ventino perché tanto i venti sono sopravvalzati ho sentito niente praticamente e facciamo una cosa del genere mettiamo il gecko 1 lo scoiattolo qua e li sacrifichiamo per mettere il topo da somma e far fuori quella cocchia di carta volante e basta con ste cocchie di pinze dobbiamo sperare che l'uovo di corvo non si trasformi subito altrimenti piangerò proprio una cifra vai così perfetto il problema è che quella cocchia di talpa mi bloccherà il prossimo turno a grizzly adesso arrivi facciamo finta di nulla che è meglio allora possiamo sacrificare a sto punto il topo da somma mettiamo qui il verme ad anello che a sua volta sacrifichiamo per mettere il grizzly qua purtroppo lui ci bloccherà un attacco è inevitabile possiamo anche mettere lo scarafaggio ok fa 1 di danno x era della serie meglio che nulla fa sempre comodo quindi fai fuori la talpa e facciamo 9 di danno e olè ho preso pochi dentini ma mi accontento l'importante è averla vinta senza troppi porchi fantastico fantastico ci stiamo per avvicinare alla prossima boss battle però si continuerei ad andare in questa direzione e speriamo ovviamente che il gioco ci dia delle carte decenti gioco quale parte di carte decenti non era chiara? potremmo non lo so prendere l'istrice è l'unico che ha un'abilità discreta non mi dispiace peraltro l'astro nascente che ha già l'upacchiotto ma il solito movimento scattante non mi piace proprio per niente quindi si si portati via l'istrice dai al primo altare guarda c'è l'altare praticamente dietro l'angolo casomai vediamo se dare il suddetto potere a uno dei nostri ragazzuoli allora signori siamo onesti sappiamo tutti quello che il TheLongamer sta per fare ovvero prendi lo scheraffaggio e dai l'abilità alla capra nera si sarei tentato di rendere il gecko però però cioè in questo caso mi richiede comunque si un sacrificio ma una volta che l'abbiamo sacrificata una volta la posso sacrificare all'infinito che cosa buona e tanto giusta e vabbè dai dai facciamo una cosa del genere e voilà ok per un secondo mi era venuto il dubbio e nella peggiore dell'ipotesi la possiamo anche utilizzare per bloccare una carta nemica si sa mai ed è giunto il momento di ritornare dallo slime pittore signore che piacere rivederla come va tutto bene la famiglia ah già è vero lei è uno slime sciolto non le resteranno molti familiari oddio potrei clonare la capra nera potrei clonare un sacco di carte un grizzly in più non sarebbe male anche se fa meno danno aumentano le probabilità che me lo ritrovo in mano detto così suona male ma ci siamo capiti sì ci servono carte d'attacco assolutamente quindi no però aspetta anche una capra nera in più ci permetterebbe di spawnare i grizzly perché ce n'è solo una io ho i dubbi esistenziali va bene clonami la capra nera incrociamo le dita ti prego non mi ciccare nulla se mi cicchi i sigilli io ti picchio male la nonna sembrerebbe la medesima carta non noto alcuna differenza quindi sì ne abbiamo due che oltre a essere immortali aumentano la probabilità che me le ritrovi direttamente fin dall'inizio perfetto è giunto il momento di affrontare il cacciatore e la venditrice e questa volta si giocano il totem dei serpenti che ti sbissiano fuori all'improvviso quando meno te l'aspetti non saresti dovuto venire qui ciccio ho capito che c'hai la passione per il miracle blade ma date una calmata la rottura di scatole è che lui si gioca ben tre rane bizzarre mentre invece un tempo qui c'era una rana toro che mi permetteva di far breccia oh ragazzi queste rane si possono spostare quindi mi sciotteranno praticamente qualunque carta questo oh oh ho un'idea ho un'idea geniale aspetta un attimo se io gli rubo una rana bizzarra praticamente si attaccheranno a vicenda e si uccideranno a vicenda oh 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 sono anche troppo malvagio perfetto intanto sta arrivando anche un coniglietto olle praticamente adesso la prossima volta che la rana bizzarra attacca verrà uccisa quindi dalla trappola scattante e abbiamo ottenuto un topo da soma che fa 4 di danni buono tuttavia devo giocare d'astuzio mettiamo un gecko qui una capra nera direttamente qua perfetto tanto è immortale appena la sacrificio tornerà in mano e mettiamo il topo da soma che comunque mi riderà un oggetto extra che è uno scoiattolo che ci torna sempre utile purtroppo per noi la rana bizzarra ci romperà le scatole è un danno da calcolare non possiamo farci nulla perfetto ed ecco qua che intanto la trappola fa fuori l'altra rana bizzarra trasformandola in una trappola porca di quelli per porca praticamente possiamo attaccare solo in questa direzione beh il topo da soma poi ci libererà un ulteriore spazio verme d'anello pos cioè le ultime due carte sono il lupacchiotto che abbiamo potenziato prima e quel cocchio di grizzly io non dico altro gente allora per adesso passiamo il turno perfetto addio topo da soma è stato un piacere conoscerti dannazione e oh il cucciolo di metalupo no dai adesso è arrivato lì l'istrice ma perché ma perché ce la devi avere con me ok poco male senti mettimi uno scoiattolo qui e l'istrice in modo tale che non appena arriva il cucciolo di metalupo ci mette il muso sopra e si fa pure uno spropoito di danno guardalo che provo a mozzicarlo e ci muore male male prima di digevolversi dai adesso ne abbiamo troppe abbiamo carte troppo potenti ma nessuna che faccia danno una istrice vai continua ad attaccare stellino mio naranatoro perfetto ed è arrivato il lupacchiotto alleluia alleluia dammi sto cocchio di scoiattolo perché altrimenti non posso schierare quella cocchio di capra nera sporcacciona perfetto e mettimi il lupacchiotto direttamente da questa parte non vinciamo il turno ma almeno facciamo 2 di danno e il lupacchiotto si tg evolve appena possibile l'aranatoro subisce 1 di danno perfetto recuperiamo a sto punto il grizzly grazie gioco al primo colpo praticamente non devo far nulla perché il nostro lupo fa 3 di danno oh ti sei spostata piccola bastarda vabbè teniamo uno scoiattolo in più che fa sempre comodo ma che carta del minga che abbiamo lupo vai un po' di danni per favore ok il suo turno è finito madonna che run strana gente e ora passiamo la mano alla venditrice salve signora come va tutto bene mi da un paio di carte extra che non sarebbe male allora vediamo un po' chi possiamo prendere allora ha la puzzola che fa danno doppio ma tecnicamente non fa danno ha la talpa che fa danno riflesso quindi ah e poi si sposta bella rottura di scatole e allora dobbiamo togliere un po' di carte e rompiscatole e guardando bene abbiamo 3 pellicce di lupo quindi posso togliere questa questa e forse anche il coyote e poi posso attaccare in tutta tranquillità la gente scelte bizzarre non hai neanche idea di quello che ti sta per colpire se io che avevo prima a pescare uno scogliattolo va bene mettimi lo scogliattolo aspetta troppe carte mai avute tante carte in mano e dov'è dov'è mettimi direttamente il grizzly ecco qua c'è qualcun altro che può fare un po' di danni coyote vuoi venire anche tu a darci una mano che gli fai due di danno pure te che cosa buona e tanto giusta e il resto delle carte non può far praticamente nulla la sci questa volta ci stai per dare uno spropoito di dentini ciccio e giù dentini ribadisco prendi il secchio una cariola la sci speriamo ci dia delle carte rare più potenti non abbiamo un mazzo poi così potente mi sono un po' pentito di aver creato quella cocchia di capra nera extra mi si sta ritorcendo contro cervo lungo il gecko uroboro 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 è interessante molto ma molto interessante un altro gecko si farebbe comodo ma ribadisco abbiamo anche troppe carte che ci danno sacrifici e passiamo anche alla prossima zona oh come mappa non è niente male ah se andiamo da questa parte possiamo clonare una nostra carta se no possiamo fondere o potenziarle al falò oddio non saprei neanche che sigilli trasferire ve lo dico onestamente allo stato attuale come ho detto il mio unico limite è che abbiamo tecnicamente due principali carte da attacco e non sono neanche così potenti quindi forse la cosa migliore sarebbe andare nella direzione del falò sperando a caso mai di potenziare il lupacchiotto fin dall'inizio e vi sarò tutti felici e contenti oppure dovremmo uccidere un sacco di volte quel bastardo di uroboro che a sua volta mi richiede doppi sacrifici ma con tutte le capre nere che abbiamo cioè più il verme d'anello che comunque fa tre sacrifici anche in quel caso ok chi non risica non rosica andiamo in direzione del suddetto falò quello che mi scoccia è che devo recuperare un'altra carta salve signore la carta nuova quella che si basa sui sacrifici ragazzi porco cane della console immaginate sto tizio dopo che ho sacrificato ma proprio uno sproposito le nostre capre nere può diventare interessante può diventare molto interessante voglio provarci voglio provarci aspetta un secondo perfetto e adesso vediamo anche di fare un saltino veloce al nostro adorabile falò dove purtroppo non c'è nessuno ad attenderci ma che peccato dove sono i miei amici cannibali allora ritornando a noi diamo una bella potenziata per l'appunto al lupacchiotto ecco qui così portiamo la sua potenza d'attacco di base a 3 che dovrebbe salire a credo 5 quando diventerà un lupo standard purtroppo non ha l'attacco multiplo se avessimo trovato un amantide sarebbe stato molto più semplice ok facciamo un salto veloce anche alla prossima battaglia tanto che ci siamo e oh che bello hai i cervi che fanno danno riflesso bravo bravo spero che tu sia fiero di te stesso allora abbiamo il red art fin dall'inizio direi che è giunto il momento di testarlo gente posso correre un rischio in effetti si tanto c'è la talpa più l'antilope nulla di che allora mettiamo lo scoiattolo poi mettiamo la capra nera ed iniziamo a non la posso uccidere per adesso dannazione mi servirebbe porca di quelli per porca non è così facile come avevo calcolato dannazione mi servirebbe un'altra capra nera quindi per adesso mettiamo semplicemente il nostro grizzly e chi si è visto si è visto ora però come lo mettiamo perché beh questo è danno inutile quindi purtroppo possiamo fare solo 8 di danno che è meglio che nulla non mi lamento e purtroppo come ho detto non possiamo schierare il red art ok lasciamo stare come detto quel cervo rosso lo utilizzeremo più avanti mi servono quindi almeno due capra nere in mano per fare questo giochino però potrebbe funzionare come ho detto potrebbe funzionare qui possiamo tenere delle pelli dall'immane quantitativo di denti ma se non incontro più la mercante saranno praticamente inutili allora per adesso un'altra carta devo recuperare vediamo un po' chi ah tu non mi dispiaci però anche poter dare l'abilità del lupo a chiotto a chi a chi a uroboro non ha molto senso si un uroboro che si potenzia al turno successivo può tornare utile uh red art si sposta non mi ero accorto bastardo vabbè teniamolo lì in ogni caso però è una vita che non vedevo questa carta me la tengo da parte solo per il semplice fatto che la puoi spawnare e punto e basta e tanti saluti senza richiedere sacrifici può diventare letteralmente di tutto la partita può assumere dei una connotazione completamente randomica no basta troppi da somma oh posso portare via un oggetto non mi ero accorto che mi mancasse dammi una roccia che nella peggiore delle ipotesi può servire a ridurre il numero di danni che subiamo qui c'è un altro falò all'occorrenza stiamo cominciando ad avere troppe carte ma questa piccola stellina la volevo da tanto tempo ma vando alle ciance e partecipiamo a un'ulteriore battaglia e lui si gioca i lupi puzzolenti che ci sono fatti la cacca d'osso ma porca di quelli per porca oh il lupacchiato fino all'inizio che bello è anche il topo da somma nel frattempo lui ha un coyote ed un istrice che fa danno a riflesso quindi facciamo molta attenzione a sto punto mettiamo uno scogliattolo qui che cosa buona e tanto giusta e casomai metto comunque la capra nera che è immortale non è necessaria ma mi permette di ottenere un osso extra che comunque ci torna utile perfetto per adesso mettimi come ho detto il lupacchiotto qui che fa già tre di danno fino all'inizio perfetto e dopo casomai ci giochiamo il topo da somma vai piccolo darabile lupacchiotto perfetto subiremo purtroppo un po' di danni ho visto arrivare uno sproposito di lupi e altre creature malvace letteralmente da dovunque tanti tante creature arrabbiate con la vita in effetti stanno arrivando allora abbiamo uno scogliattolo per adesso abbiamo tre oggetti quindi casomai mi fai il col nostro ventino non so mai questo episodio non mi saranno più venti alla fine e allora il nostro lupo fa cinque di danno quindi queste le sciotta subito adesso now e casomai facciamo così di nuovo la capra perfetto e la utilizziamo per spawnare il topo da somma che fa quattro di danno aspetta un secondo ma mi conviene in effetti no lo metto qua che ok il suo danno sarà ridotto per adesso ma non è un grande problema così facendo possiamo toglierci dalle scatole un po' di carte rompiballe purtroppo il lupo ci fa tre di danno ma al turno successivo siamo noi a fare una marea infinita di danni eh vabbè è arrivato un istrice che non me ne faccio praticamente nulla come detto siamo noi a fare uno spropoito di danni perfetto e ci prendiamo qualche dentino extra che fa sempre comodo ok l'abbiamo vinta easy easy senza troppi problemi allora abbiamo un falò che potrebbe effettivamente tornarci utile per potenziare direttamente un roboro che porco cane non se non mi arriva in mano è un bel problemone quantomeno se li buttiamo subito a tre l'attacco oh potrebbe comunque tornare utile signor leshi mi dispiace purtroppo ho notato adesso che il nostro tempo per questo episodio si conclude qui nella prossima puntata finiamo questa run che non dovrebbe durare tanto in meno di una decina di minuti dovremmo giungere allo scontro finale con il signor leshi per quanto ammetto stavolta ho fatto un po' di errori abbiamo una marea di carte di supporto ma poche carte da attacco in un modo o nell'altro ce la dovremmo fare sta challenge ormai sarà praticamente impossibile una volta tanto che c'era il verme ad anello ma che coccio signori nei commenti allora fatemi sapere cosa ne pensate lasciate un bel mi piace o venite aggrediti male male dalle mie capre nere e noi ci vedremo in un prossimo video ciao ciao